Recandovi su Instant Gaming attraverso il link personale è sempre Natale, ogni giorno sconti su tutti i giochi, abbonamenti, ricarica del portafoglio e altri servizi di tutte le piattaforme di gioco, se vorrai risparmiare, link personale della collaborazione di Instant Gaming nella descrizione. Bella a tutti archetti sino Orcuverde, ci sono buone notizie per il porting di Red Dead Redemption? Rawstar Games sui propri social ha pubblicato questo post dove annuncia che Red Dead Redemption e Undead Nightmare sono stati aggiunti al catalogo dei giochi inclusi in GTA Plus e sono disponibili per i membri di GTA Plus che possono giocare su PlayStation 5 e Xbox Series X barra S con il loro abbonamento attivo. Quindi con l'abbonamento attivo di GTA Plus che costa 5,99€ al mese i giocatori potranno scaricare Red Dead Redemption sulla piattaforma dove è stato effettuato l'abbonamento a GTA Plus e giocarci per tutta la durata dell'abbonamento attivo di GTA Plus. Tenete bene conto a questa cosa in quanto vi trae un ottimo vantaggio nel risparmiare tanti bei soldini senza acquistare il gioco quindi senza spendere la cifra totale del costo del gioco. Riuscirete a giocare a questo magnifico capolavoro pagando soltanto 5,99€ dell'abbonamento a GTA Plus sfruttando il vantaggio. Se poi siete degli orchetti che giocano maggiormente a GTA e hanno già l'abbonamento a GTA Plus attivo meglio per voi in quanto è come se l'avreste gratis visto che l'abbonamento a GTA Plus l'avevate già effettuato per ricevere gli altri suoi vantaggi. Quindi un ottimo metodo per giocare a Red Dead Redemption senza spendere la cifra totale del costo del gioco ve lo consiglio in quanto è un capolavoro soprattutto se avete giocato a Red Dead Redemption 2 e non avete mai visto nel giocato il primo Red Dead Redemption. Anche perché ci tengo a ricordarlo il primo Red Dead Redemption è ambientato dopo Red Dead Redemption 2. La storia di Red Dead Redemption 2 con Arthur Morgan è un prequel. In più tra i vantaggi dell'abbonamento a GTA Plus in merito a Red Dead Redemption nel momento in cui con quell'account si avrà attivo l'abbonamento a GTA Plus si potrà acquistare Red Dead Redemption con uno sconto speciale del 20%. Tenete bene a presente anche che nel primo Red Dead Redemption su PlayStation 5 saranno disponibili anche i 60 fps che Rockstar Games ha rilasciato successivamente dopo l'uscita del porting di Red Dead Redemption. Riguardo i 60 fps rilasciati ne ho parlato in un video dedicato caricato qui nel canale YouTube che se non avete ancora visto e sarete interessati vi invito a andarlo a guardare. Lascerò il link di quel video nella descrizione di questo video. Ci tengo a ricordare e ad informarvi qualora già non lo sapeste che nel porting di Red Dead Redemption su PlayStation non ci sarà la versione online. Mentre riguardo Red Dead Redemption su Xbox grazie alla retrocompatibilità avrà anche i multiplayer ma non avrà i 60 fps. I 60 fps sono stati soltanto rilasciati nella versione PS5 del porting di Red Dead Redemption grazie alla retrocompatibilità. E nient'orchetti come sempre se ci saranno altre notizie, novità e informazioni vi terrò aggiornati qui nel canale YouTube con un nuovo video dedicato. Avendo platinato Red Dead Redemption su PlayStation 3, Red Dead Redemption 2 è il porting di Red Dead Redemption. Se avete bisogno di qualsiasi cosa inerente a Red Dead potete contattarmi su uno dei qualsiasi social, vi risponderò e cercherò di aiutarvi senza problemi. Vi invito anche a guardare i due video caricati qui nel canale YouTube in merito al platino di tutti questi tre capolavori, di tutti e tre i Red Dead Redemption. Lascerò direttamente la playlist caricata nel canale YouTube. Nella descrizione di questo video la playlist contiene questi due video caricati inerente al platino di Red Dead Redemption su PlayStation 3. Red Dead Redemption 2 è il porting di Red Dead Redemption. Trovate tutti i link dei miei social dove potrete contattarmi nella descrizione di ogni video. E nient'orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video per supportarmi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Seguitemi su Twitch, su Instagram, sulla pagina Facebook e su tutti gli altri social. Troverete, come detto poco fa, tutti i link dei miei social nella descrizione di ogni video. Date un'occhiata a tutti i vantaggi degli abbonamenti, in quanto sono veramente sostanziosi e numerosi. Troverete il link per abbonarsi, così come anche per vedere tutti i vantaggi degli abbonamenti, nella descrizione di ogni video. In più, se giocate a Red Dead Online, all'online di Red Dead Redemption 2, vi invito a recarvi nella playlist dedicata ai glitch di Red Dead, perché lì troverete tutti i glitch presenti nella frontiera, senza doverli andare a cercare nei video caricati. Quindi nella maniera più comoda, organizzata e veloce. E da Orkiverd, tutto noi ci vediamo al prossimo video. Bella!